e ciao a tutti eccoci qui noi siamo mm8 mio padre Claudio qui vicino a me ciao pa ciao a tutti allora ieri probabilmente vi sarete chiesti ma perché non hanno fatto il post partita ma che fine hanno fatto vabbè io ci sono stato con lo sfizio che era da recuperare da venerdì appunto perché non ce l'avevo fatta come non ce l'abbiamo fatta a fare il post partita ieri perché io poi non ero molto in forma e quindi abbiamo preferito fare il giorno dopo come comunque è già successo allora post partita diciamo doppio visto che parleremo sia del Milan che ha giocato prima che dell'Inter non parleremo della Juve perché la partita sì vabbè potremmo dirvi il risultato anche se pensiamo cioè almeno io lo penso penso che anche te passi d'accordo che tutti voi sappiate com'è finita quell'illusione durata 3 minuti del pareggio del Venezia ma insomma la partita io l'ho sentito praticamente tutto il secondo tempo ma il primo no sinceramente no per cui non saprei di gesto solo che Bonucci ha fatto due gol che quando segna Bonucci praticamente mai comunque a parte questo ricordo prima di parlare del Milan e dell'Inter di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanella per non perdere mai nessuna notifica di seguirmi su Instagram dove ho anche la pagina del canale mm8 appunto il musicista nel pallone e di seguirmi anche su Facebook allora partiamo dal Milan come detto che ha giocato alle 3 contro la Fiorentina a San Siro ed ha vinto però quello che fa più arrabbiare sicuramente è come ha vinto no pa ne parliamo adesso allora ne parliamo ne parliamo cosa che non parliamo della Juve intanto è fuori dai giochi la Juve sì oramai lo Scudetto è a Milano vedremo a chi vedremo che a Milano oramai lo si sa da almeno un mese vedremo a chi va se non di più vedremo a chi va esatto comunque Milan Fiorentina una partita equilibrata dove le due squadre hanno giocato hanno avuto azioni sul settimo Teo segna ma è fuori gioco si è visto chiarissimo anche in diretta undicesimo Igor sfiora al palo sedicesimo Giroud si mangia un gol tirando fuori di pochissimo ventunesimo Saponara respinge Megnano un bel tiro una partita un primo tempo equilibrato e lo stesso il secondo primo tempo si è un secondo tempo equilibrato con Leao che tira alto di poco sopra la traversa settantasesimo Cabras tira Megnano fa un miracolo una bella parata la partita si va verso lo 0 a 0 meritato da tutte e due le squadre se non che un altro paperone a vantaggio del Milan del portiere di Terracciano che regala il pallone a Leao che segna subito 1 a 0 si ormai la partita finisce così 1 a 0 a noi Milan giustamente i tifosi milanisti giustamente festeggiano noi no perché non si può cioè se uno vedesse un Milan superiore un bel gioco invece noi gli abbiamo regalato dei punti perdendo col Bologna con un regalo che io non ho mai visto non ho mai visto ma anche ieri Terracciano ieri Terracciano un altro un altro paperone che ma non capisco come come sta andando sto campionato si l'ha detto anche effettivamente comunque io non voglio dire niente però veramente mi sembra strano strano che tutti sbagliano guarda caso a favore del Milan si l'ha detto anche lo stesso Radu non è che non dico che che gioca nell'Inter non è che dico però magari se c'era Danovic effettivamente non succedeva ma se c'era chiunque altro non succedeva perché io non l'ho mai visto comunque l'ha detto anche questo come stavo dicendo quello youtuber che ci ha fatto i complimenti la settimana scorsa a Pilore di Caccio adesso il nome non me lo ricordo me l'ha detto poi ma anche lui ha insomma nel suo video che ho guardato ultimamente guardo anche i suoi non come il buon Gianluca che Gianluca è Gianluca però anche lui appunto ultimamente visto che ci ha fatto i complimenti insomma segue il mio canale anche giusto che io seguo il suo mi sta mi sta piacendo abbastanza e ha detto che effettivamente c'è tutti questi regali tutti questi tutte queste papere a favore del Milan insomma probabilmente secondo lui il campionato è diciamo già indirizzato ma non da queste due partite ma già da tempo boh staremo a vedere speriamo che si sbagli anche perché è interista come noi per cui sicuramente lo spera anche lui però vedremo in cosa succederà in queste tre partite che mancano vabbè 4 con per quel che riguarda noi con la finale di Coppa Italia l'11 maggio allora per quanto riguarda noi appunto cosa vogliamo dire allora passiamo all'Inter esatto che ha giocato alle 6 Inter Udinese Udinese Inter si si usina vabbè certo io metto sempre l'Inter davanti in friuli comunque Udinese Inter Udinese Inter un Inter che fa girare tanto palla al dodicesimo Perisic di testa manda subito Perisic di testa sul calcio d'angolo fa manda subito l'Inter in vantaggio bene sembra una partita facile invece nel corso della partita vediamo cosa succede allora al diciassettesimo De Marco tira e devi al portiere in calcio d'angolo al trentacinquesimo fallo di Skriniar su Dzeko no mi fa di Skriniar fallo in area fallo in area Dzeko calcio di rigore si va al VAR ma si è visto benissimo che ha calcio di rigore si anche quello tu me l'hai detto subito ha continuato giocando e predo giocare Dzeko neanche si alzava dall'area di che si sistemava le scarpe i calzini intanto diceva intanto il rigore neanche si alzava comunque Lautaro al trentottesimo va per tirare il rigore brivido sempre perché tira palo tocca al portiere di testa lo stesso Lautaro la butta dentro e così si passa al 2 al 0 partita sembra chiusa il secondo tempo al cinquantunesimo Dzeko davanti alla porta tira fuori da solo cioè porta vuota ne fa dei gol molto più difficili questo lo ha sbagliato che avrebbe chiuso la partita vogliamo considerare anche questa un regalo no 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 ci sta non è non è il primo può capitare non è il primo no 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 può succedere può succedere si arriva al settantatresimo quando Pussetto dopo una punizione parata da Andanovic miracolosamente perché ha fatto una bellissima parata va sui piedi di Pussetto la deviazione tira rete 2 a 1 da lì ci siamo complicati la partita perché quei dieci minuti sono stati dal settantatresimo fino alla fine è stato veramente un incubo perché non si giocava più si stava lì si aspettava l'Udinese cercava giustamente il pareggio cosa che fortunatamente non è arrivata e niente finita così 2 a 1 per noi bene teniamo teniamo dietro a due punti dietro il Milan vedremo 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 il Milan la partita è un po' difficilina io conto sull'Atalanta però vediamo l'Atalanta ultimamente non la guarda cioè stasera so che gioca magari ne guardo un pezzo non è che comunque sentendo i video che Gianluca fa perché sapete che Castellano lo seguo sempre diciamo che da quello che dice lui non c'è da ben sperare nell'Atalanta perché insomma io piuttosto spererei nel Verona che se non sbaglio affronterà il Milan adesso non mi ricordo quando comunque questa settimana staremo a vedere staremo a vedere l'Atalanta è un po' calata è parecchio calata insomma parecchio calata ma quando si incontra una squadra come mi contro queste squadrette quando trovano una squadra squadrette queste squadre in media classifica diciamo quando trovano una squadra come Inter, Milan, Juve danno sempre del filo da torcere perché si esaltano, vogliono portare a casa un risultato si stavo per dire abbiamo visto noi col Bologna ma col Bologna siamo stati noi noi abbiamo fatto di tutto nostro invece quando queste squadre incontrano o l'Inter o il Milan o la Juve non avendo niente da perdere tirano fuori le unghie danno il tutto per tutto e a volte fanno dei dei colpacci dei brutti regali si diciamo così effettivamente ai danni nostri ovviamente non loro bene dai va bene noi ci vediamo questa sera alle sette e mezza non per la pfps perché sempre perché ieri non ero molto in forma non sono riuscito né a mandare il tutto al mio editor né a vedere un po' che pezzi c'erano né tantomeno a fare i video e di conseguenza la mettiamo venerdì al posto di una compilation che ci sarà oggi sempre alla stessa ora alle sette e mezza cioè ovviamente ciao da mm8 e da claudio forza inter e ciao a tutti